Noi come Valdimagra Volley partecipiamo a tutti i campionati sia col maschile che col femminile. Quindi oltre alla Serie B nazionale abbiamo la C femminile e la C maschile regionali, nel maschile in collaborazione con l'Avis La Spezia, e poi facciamo tutti i campionati giovanili sia col maschile che col femminile, per poi concludere col settore mini volley. E il fatto di disputare tutti i campionati sia col maschile che col femminile è una caratteristica che ci contraddistingue come società a livello regionale. Siamo una delle pochissime società e per questo andiamo molto orgogliosi e fieri di questo, cercando di ottenere i migliori risultati.